Mi raccomando ragazzi, signore, signorini, signorotti, tutti coloro che sono a tavola abbiano l'avvertenza di non battere le posate sul piatto perché sennò coprite tutto anche perché sta avvenendo un fatto molto importante per superiore che si è piaciuta qui dal nostro tinellino in Vimini c'è un ostide di quelli grossi, di quelli importanti, di quelli che ti riempiano la trasmissione è Domenico Modugno, giuro ho detto bene? ma hai detto benissimo è giusto che si abbia un po' di riguardo dà fastidio la posata che batte no, per carità poi il rumore dei bicchieri, il ragazzino che piace tutto si è bisogno di fermare tutto è un momento di calma, concedetevi questo momento di calma con Domenico Modugno, il più grosso, secondo me uno dei più grossi artisti italiani anche all'estero lui è un made in Italy da vent'anni antelitteram antelitteram, parla anche in latino perché tutti gli artisti parlano un po' di latino certo senti, sembrano tanti anni in fondo quanti anni sono? ma che sono una trentina in confronto all'eternità trenta, nel settecento di Modugno non se ne parla non è niente, infatti come vedi per cui era pochissimo tempo fa e come sei riuscito a importi in fondo senza essere cattivo non mi sembri cattivo tu cosa ne pensi? grinta sì ma la grinta non vuol dire cattiveria la grinta vuol dire temperamento vuol dire volontà per rimanere sul piedestallo bisogna essere anche un pochino prepotenti a volte bisogna avere temperamento non bisogna confondere prepotenza con temperamento temperamento vuol dire temperamento sospeso sopravvicoli e sottane e spifferi di caldo odor di pane in una porta a caso sulle scale io vivo qui col sole dietro a troppe ciminiere e l'orizzonte oltre le ringhiere in una casa che ha provato tutto io vivo qui con qualche tuo vestito ancora appeso per ricordarmi dei momenti a caso con una porta che qualcuno ha chiuso io vivo qui se questo è ridere non sono un treno se questo è ridere da troppo non me lo chiede di più se questo è ridere morire che cos'è se questo è ridere allora che cos'è da insieme a te a super classifica show c'è Domenico Modugno in mezzo ad un disordine ordinato in cui soltanto te non ho trovato tra fogli pieni di rimorsi in rima io vivo qui dove succede tutto e pure niente e se cade una lacrima si sente dove si gioca a carte con la noia io vivo qui tra le televisioni nella sera e la tua voce che io sento ancora con un soffitto che contero un cielo io vivo qui se questo è ridere non so nemmeno io se questo è ridere da troppo non me lo chiedevo più se questo è ridere morire che cos'è se questo è ridere